Spesso mi chiedono quale pannello fotovoltaico mi consigli e al di là di nomi più o meno famosi io ti consiglio questo pannello qua, il nuovo Solarege che include già preinstallato l'ottimizzatore. L'ottimizzatore migliora le prestazioni generali di tutto l'impianto addirittura di un 20% ma, cosa ancora più importante, ti garantisce da un punto di vista della sicurezza. Infatti nel caso in cui ci dovesse essere, possibilità remota ma non impossibile, un incendio sul tuo capannone industriale avendo gli ottimizzatori immediatamente l'inverter abbasserà il voltaggio del singolo pannello da 48 a un solo volt offrendo un'opportunità molto più facile da gestire per i vigili del fuoco. Metti mi piace e seguimi. Un saluto a tutti da Marco Fai, autosperto del fotovoltaico. Ciao!